Allora, buongiorno a tutti, benvenuti in questo webinar che è il webinar che chiude questa settimana la settimana dell'amministrazione aperta, l'OG Week edizione 2023. La giornata di oggi è anche, oltre ad essere l'evento di chiusura di questa settimana che ha visto ogni giorno degli eventi dedicati ai diversi temi legati al governo aperto e anche un'occasione di incontro per la community OGPT. Normalmente gli incontri della community avvengono con cadenza periodica e sono riservati alle persone che hanno aderito, organizzazioni dell'APA, della società civile che hanno aderito all'iniziativa OGP. Come, diciamo, per rimanere in linea con lo spirito di apertura di questa settimana, questa giornata fa coincidere, quindi anche un momento di incontro della community con un momento aperto a tutti coloro che sono interessati ai temi del governo aperto e che vogliono, seguendo in particolare l'evento di oggi, avere una visione sulla prospettiva, quindi su quello che si sta preparando, quali sono gli indirizzi strategici, cosa succederà da ora in poi. Vi ricordo che anche questo, come gli altri eventi della settimana dell'amministrazione aperta e registrato, i materiali saranno disponibili sul sito EventiPA, quindi sia la registrazione sia le slide che presenteranno i relatori di oggi. Vedete, ora ha condiviso il programma dell'evento. Io rubo ancora solo un minuto, intanto che voi state accedendo, per ricordarvi che avete a disposizione una chat nella quale ovviamente inserire dei commenti, delle richieste eventualmente anche di assistenza tecnica, se avete necessità di un supporto, e poi invece uno spazio per le domande e risposte, nel quale vi chiediamo di mettere le domande che vorrete porre ai relatori di oggi. Io a questo punto lascerei la parola per il primo intervento di apertura al dottor Angeletti, al quale chiedo di attivare webcam e microfono per il saluto di apertura. Eccolo qua, prego. Grazie, grazie Laura. Buongiorno a tutti e buongiorno a tutte. Ben trovati in questo webinar che chiude la settimana dell'amministrazione aperta, come diceva la collega. Una settimana molto importante in cui sono stati programmati e realizzati numerosi eventi. Il Dipartimento della Funzione Pubblica, in collaborazione con la SNA e col Forma, se ne ha organizzati 13, ma poi questa settimana è stata arricchita da molte iniziative promosse dalle altre istituzioni pubbliche e dalle organizzazioni della società civile. Chiudiamo con un tema molto importante, anzi fondamentale, politiche per il governo aperto, futuri orizzonti strategici. Quindi chiudiamo parlando di strategia del governo aperto, avendo peraltro disegnato in questa settimana agli appuntamenti le traiettorie fondamentali di questo percorso strategico. La settimana infatti si è aperta con il messaggio, il saluto del Ministro per la pubblica amministrazione, il senatore Paolo Zangrillo, il quale ha sottolineato anche, oltre all'importanza della strategia nazionale per il governo aperto come piattaforma abilitante delle politiche di innovazione delle amministrazioni pubbliche, ha sottolineato appunto l'importanza di due obiettivi su cui la community di OGP sta lavorando, che sono quello del lab della partecipazione e del forum multistakeholder. Allora, andando con ordine, io vorrei sviluppare velocissimamente alcune considerazioni su questi temi e sulla importanza che questa politica pubblica si appoggi su una strategia ampia, condivisa e che abbia appunto una visione strategica. Prima considerazione, il governo aperto, noi sappiamo, è una piattaforma abilitante di altre politiche che decliniamo di volta in volta con item quali la trasparenza, la partecipazione, l'anticorruzione, l'inclusione sociale, la digitalizzazione, l'accountability e così via. Non sono temi da implementare in maniera differenziata, ma sono ambiti di intervento da connettere che richiedono un forte coordinamento e una forte strategia tra gli attori istituzionali e gli stakeholder della società civile. L'implementazione del governo aperto richiede in altri termini una strategia, una visione strategica. La nostra politica, la politica del governo aperto nel nostro paese è relativamente giovane, nasce sostanzialmente grazie a un'opportunità che non vuole essere un vincolo esterno, che è quella dell'adesione, diciamo, ad una piattaforma di carattere internazionale, l'Open Government Partnership, è una politica relativamente giovane che però si è progressivamente, significativamente rafforzata nel corso degli ultimi anni grazie al lavoro che ha fatto una community che piano piano si è ampliata, una community composta da rappresentanti delle istituzioni, delle amministrazioni pubbliche, della società civile, rappresentanti che hanno lavorato e lavorano con pari rilevanza e con pari dignità. I risultati di questa community sono tangibili, sono rinvenibili nei piani nazionali del governo aperto, in questa fase ci troviamo nell'implementazione del quinto piano nazionale 2022-2023, che è frutto di un processo di co-creazione scatolito da un ampio confronto tra tutti i portatori di interesse rispetto alle politiche di cui sto parlando. Possiamo considerare le strategie e le politiche di open government nel nostro paese mature? Direi non completamente, ma questa non è una cattiva notizia, è semplicemente un motivo per una evidenza che ci consente di focalizzare gli obiettivi di miglioramento. Sicuramente tra questi possiamo individuare la necessità di integrare delle politiche sui temi che ricordavo prima, trasparenza, anticorruzione, digitalizzazione, inclusione, partecipazione, che altrimenti rischiano di essere mere politiche settoriali e quindi di non dispiegare il reale valore aggiunto. Rafforzare il commitment politico, rafforzare gli strumenti tecnologici, ma anche metodologici e organizzativi a supporto della condivisione della conoscenza e dell'informazione per supportare i processi di partecipazione, i processi decisionali inclusivi e quindi le competenze digitali e sicuramente rafforzare nelle amministrazioni pubbliche una cultura orientata al governo aperto e le competenze dei singoli dipendenti. Servono quindi risultati concreti e li abbiamo prodotti. La settimana dell'amministrazione aperta che si va a chiudere è stata una carrellata di risultati e di iniziative declinate a livello centrale e territoriale sulle varie politiche pubbliche. Serve però anche rafforzare la governanza di questa piattaforma dell'open government o dell'amministrazione aperta. Per questo motivo il quinto NAP, il quinto piano nazionale del governo aperto, ha tra i suoi obiettivi fondamentali ed è il primo infatti, quello della creazione del forum multistakeholder, cioè un attore qualificato per la definizione, che lavora la definizione di una strategia nazionale per il governo aperto, una strategia che è frutto del coinvolgimento, come dicevo, di tutti i principali attori e i portatori di interesse. Aumentano le ambizioni della community, lo GP è giusto che sia, così sale quindi la possibilità di far sì che questa piattaforma dell'amministrazione aperta sia sempre più forte e produca dei risultati incisivi, aumentano le opportunità e aumentano anche le sfide. Ecco, nel webinar di oggi parleremo di questo, i colleghi e le colleghe che seguiranno parleranno fondamentalmente di questo, dell'opportunità della proiezione di questa strategia nel futuro, declinandola in maniera attuale, ad esempio ai tempi del PNRR e approfondendo alcune tra le tante sfide che possiamo individuare che sono quelle della partecipazione, soprattutto dei giovani, della promozione dello spazio civico, della cultura, dell'integrità, della trasparenza, ma prima ancora direi anche della comprensione e della conoscibilità delle politiche pubbliche, pensiamo all'attuazione del PNRR affinché migliorino i processi decisionali e si rafforzino le nostre democrazie. Grazie a tutti voi che partecipate a questo webinar, grazie ai colleghi e le colleghe che interverranno dopo di me e cedo la parola a questo punto a Marieva Favoino che è portavoce del forum Multistakeholder per il suo intervento. Grazie. Grazie Sauro, grazie per questa introduzione. Io do il benvenuto a tutti e condivido il mio schermo perché ho preparato alcune slide. Benissimo. Sauro Angeletti già è entrato nel merito di alcune questioni che avevamo immaginato di affrontare oggi con gli iscritti a questo webinar che sappiamo essere in larga parte appartenenti alla community ma che ci auguriamo che siano anche persone di realtà organizzative della società civile o di enti pubblici che si stanno avvicinando proprio in questi giorni magari proprio in occasione della settimana del governo aperto alla tematica appunto del governo aperto quindi immaginavo comunque di partire da una contestualizzazione di quello che ci diremo oggi nei tanti interventi che seguiranno parliamo quando parliamo di governo aperto parliamo di una cultura della governance pubblica che promuove i principi di trasparenza partecipazione e collaborazione a sostegno sempre di una democrazia compiuta e di una crescita inclusiva quindi che non lasci indietro nessuno i principi sono quelli che vediamo in questo diagramma e sono quelli i pilastri del governo aperto tradizionali sono quelli della trasparenza della qualità dell'informazione della partecipazione civica e dell'innovazione digitale inclusiva sulla trasparenza e qualità dell'informazione personalmente in qualità di comunicatrice pubblica ritengo di sottolineare quanto la qualità dell'informazione sia comunque debba comunque essere pervasiva in qualunque piano di azione che voglia realmente compiere i principi del governo aperto da dove arriviamo? Arriviamo da dieci anni di lavoro in un partenariato globale l'Italia ha aderito alla Open Government Partnership nel 2011 e questo partenariato è di fatto dieci anni che lavora a livello globale per la manutenzione e lo sviluppo della democrazia e per arrivare e giungere a migliore decisione pubbliche si tratta di settantotto paesi che partecipano all'OGP e settantasei governi che hanno portato ad assumere più di quattromila e cinquecento impegni che poi sono divettate azioni concrete che cosa succede in Italia? In Italia come raccontava Saura Angeletti l'Italia è uno dei paesi che ha costruito sta costruendo è una delle azioni del quinto piano di azione nazionale sta costruendo il forum multistakeholder l'immagine che vedete in questa slide è proprio quella dell'otto maggio scorso di apertura del termine della giornata di apertura della Open Government Week dove tutti i componenti del forum si sono incontrati in presenza si tratta di 22 realtà tra associazioni della società civile e enti pubblici di diversi livelli di governo quindi sia centrali che locali che hanno il compito di appunto gestire la governance del governo aperto e delle azioni di governo aperto nel nostro paese oltre al forum mi piaceva ad esempio scusate prima di passare a parlare della community qui vedete tutte elencati tutti i componenti del forum alcuni di loro li sentirete nei loro interventi durante questo webinar e altri comunque hanno lavorato e stanno lavorando insieme a noi anche in questi giorni della settimana del governo aperto li avrete magari incrociati in qualche in qualche webinar tra l'altro uno stamattina molto interessante di cui poi ci parlerà Valentina Donini sul tema delle agende aperte la community invece è composta da 27 amministrazioni pubbliche centrali e locali e 46 organizzazioni della società civile l'adesione ci teniamo a ricordarlo è sempre aperta non finiremo mai di sottolinearlo abbastanza la community è aperta costantemente e abbiamo grande bisogno che diventi sempre più rappresentativa delle categorie di cittadini che sono a rischio di esclusione dalla definizione delle politiche pubbliche a loro rivolte ci riferiamo in particolar modo ai giovani e alle donne passando poi a parlare del quinto piano nazionale per il governo aperto questo è quello che noi stiamo realizzando ci siamo presi l'impegno di realizzare come community e quindi pubblica amministrazione e organizzazioni della società civile sono 70 gli attori su questo piano e queste sono le 5 azioni del piano il piano viene monitorato costantemente e recentemente proprio nello scorso marzo abbiamo pubblicato il terzo rapporto quadrimestrale sull'attuazione del piano in particolar modo come forum abbiamo cercato di delineare quali sono le lezioni che stiamo apprendendo durante il percorso di attuazione di questo piano come si diceva in apertura una delle lezioni apprese è quella del dover lavorare molto di più sulla rappresentatività dei portatori di interesse nei percorsi di governo aperto del nostro paese e un'altra cosa altrettanto importante ci siamo che abbiamo imparato come lezioni che stiamo imparando è quella che la proattività dei singoli membri della community è fondamentale per potenziare qualunque tipo di azione venga lanciata questa è la situazione italiana questa è l'attività su cui stiamo lavorando insieme anche a livello globale abbiamo appreso delle azioni il VRM che è l'Independent Reporting Mechanism che lavora insieme allo Steering Committee della partnership globale ha pubblicato questo report ed è hai disattivato il microfono attenzione hai disattivato il microfono Maria attenzione è ancora disattivato è ancora disattivato clicca sull'icona eccoci scusatemi abbiamo sentito fino a che hai cominciato a parlare del Vital Science sì Vital Science che è il documento dell'Independent Reporting Mechanism che lavora insieme allo Steering Committee della partnership globale che ha evidenziato l'evidente che ha evidenziato che ha lavorato sulle evidenze dei piani d'azione nazionali di tutti i paesi addirenti addirenti al partenariato globale dal 2012 a 2020 ma i dati a cui si riferisce sono fino a 2021 e come vedete anche l'IRM ha definito alcune priorità coinvolgimento già dai dati già da una prima analisi di che cosa è successo in questi anni l'accento è stato posto sul coinvolgimento della società civile sull'avere piani d'azione ambiziosi che possano spingere avanti i confini dell'azione del partenariato una maggiore incisività sull'implementazione e una maggiore attenzione sul presidio delle libertà fondamentali intese come manutenzione e preservazione dello spazio civico cioè dei percorsi di partecipazione attiva alla definizione di politiche pubbliche come si è lavorato sulla definizione della nuova strategia globale di open government cioè la strategia che accompagnerà tutta la community globale quindi anche noi dal 2023 cioè da quest'anno fino al 2028 con un metodo partecipativo ci sono state delle community community conversations da maggio agosto 2022 una seconda fase di sviluppo della strategia ad agosto a novembre del 2022 e poi il termine ultimo era marzo 2023 per la messa a punto della nuova strategia globale come avrete visto chi ha seguito il lancio ufficiale della nuova strategia è stato proprio l'otto l'otto di maggio che per l'Italia che ha coinciso con con l'apertura dell'Open Government Week che sapete essere un evento globale quindi non si è svolta solo in Italia ma si è svolta in tutti i paesi aderenti al partenariato qui mi piaceva farvi vedere le conversazioni durante questo percorso partecipativo cosa hanno fatto emergere vedete bene da questo diagramma da questo grafico che insomma uno dei temi salienti importanti sottolineati a livello globale di lavoro comune come presidio e come sviluppo è quella della partecipazione dei cittadini da un lato e sugli altri che è stata la cosa più importante ma anche è emersa con forza l'opportunità di di essere presenti come strategia globale sulle minacce e opportunità della digitalizzazione e poi altri temi più tradizionali come quello della trasparenza del genere dell'inclusione dello spazio civico e così via questa è la nuova strategia globale come vedete ho voluto rimettere qui la vision e la mission della strategia globale lanciata l'otto maggio dove è stato evidente che l'impegno che la community globale si è presa è stato quello di essere più impegnata politicamente ma non nel senso di doversi mettere in politica quando di poter di dover curare particolarmente dei partenariati forti delle alleanze forti con i leader politici che vogliano essere dei champion come dire portare avanti la bandiera nel loro impegno politico e istituzionale dei principi del governo aperto e poi anche sfruttare delle finestre di opportunità politica quindi questo vuol dire questo primo punto di strategia il secondo punto è essere più centrati sulle persone cioè fornire ai cittadini a qualunque livello anche locale capacità e competenze sufficienti ma anche informazioni e qui di nuovo emerge il tema della trasparenza per poter garantire il cosiddetto empowerment cioè metterli in condizioni di comprendere che quella decisione pubblica impatterà direttamente sulle loro vite e che quindi possono avere voce perché hanno potuto sviluppare delle competenze e hanno degli alleati l'ultima l'ultimo obiettivo fondamentale l'ultima sfida fondamentale di questa nuova strategia è quella dell'essere più ispiratori cioè una strategia di chi si occupa di governo aperto chi è in campo sul governo aperto ciascuno per il proprio ruolo deve imparare a essere deve iniziare a lavorare sul racconto di quello che si si può raggiungere con dei veri percorsi di governo aperto cioè come i risultati sono davvero migliori se si utilizzano se si utilizzano se si mettono in campo i pilastri del governo aperto che sono partecipazione collaborazione e co-creazione a fronte di questi di questa impostazione complessiva sono stati stabiliti nella nuova strategia di partenariato globale cinque obiettivi strategici che venite qui elencati ampliare la community applicare il governo aperto a livello locale sostenere sempre più lo spazio civico che in alcuni casi è sotto minaccia accelerare le riforme condividere esperienze e ispirare nuovi progetti come lo stiamo già facendo durante l'open government week che si chiude oggi abbiamo già raggiunto secondo noi parlo a nome del forum degli importanti risultati perché abbiamo visto in concreto in questi giorni oggi chiudiamo l'open government week con questo questo webinar che quando la community lavora insieme riesce già a potenziare delle buone pratiche a mettere in rete a stabilire future azioni che possano spingere un po' più in là il limite dell'azione abbiamo già fatto qualcosa perché abbiamo anche raccolto un'importante apertura parlando dell'agire anche a livello politico un'importante apertura da parte del ministro della pubblica amministrazione Zangrillo sulle proposte che di cui poi ci parlerà Valentina Donini che abbiamo formalizzato e l'invito ad ANAC da parte del presidente Busia a un lavoro comune sul miglioramento delle potiche di trasparenza che vadano verso una reale accountability cioè lavorare sulla trasparenza ma perché vogliamo rendere conto ai cittadini questo è quello che abbiamo raccolto da ANAC e fare questo producendo dei dataset di valore quindi razionalizzare non limitare non cancellare degli obblighi di trasparenza ma razionalizzarli potenziarli renderli sempre più comunicabili ai cittadini più evidenze per i dati e poi questa settimana ci ha fornito anche un'importante dimostrazione di come il tema delle agende aperte facevo riferimento prima a un webinar che si è tenuto stamattina sia diventato maturo e possa davvero essere messo a sistema in una nuova strategia nazionale che è quello di cui parliamo oggi e poi questa settimana ha anche sottolineato l'urgenza ma veramente l'urgenza di un posizionamento della nostra nuova strategia nazionale come Italia sulla governance digitale a presidio dei diritti cioè lavorare iniziare a lavorare non sono più questioni di frontiera sul data design e sull'implicazione dell'intelligenza artificiale che è già di fatto alla base di alcune decisioni pubbliche e quindi anche sulla trasparenza degli algoritmi io concludo ho voluto raccontarvi con questa immagine che ci vede come forum al lavoro durante l'ultima nostra riunione del nove scorso di qualche giorno fa proprio nella sede ANAC che ci ha ospitato e che mi serve per introdurre e lasciare la parola ad altri membri del forum che interverranno dopo di me quindi interrompo la condivisione mi scuso se ho preso qualche minuto in più e passerei la parola a Stefano Morollo che vedo qui se vuoi accendere grazie Stefano io disattivo il mio audio salve buongiorno a tutti mi sentite bene? sì Stefano sì ti sentiamo sì ok allora la presentazione di Maria è stata perfetta e quindi automaticamente in qualche maniera agevola anche la mia perché appunto ho ricostruito un minimo il percorso che abbiamo fatto fin qui perché poi il mio obiettivo come amministrazione locale facente parte della community ma anche del forum è anche un pochino quello di raccontare la mia esperienza come amministrazione locale in un'ottica anche di un asset importante dell'open government partnership che è appunto l'OGP local sostanzialmente e in quest'ottica vedere appunto i processi diffusi di governo aperto diffusi in qualche maniera sul territorio o anche a diversi livelli della pubblica amministrazione e come strategia futura ma in quest'ottica qui quindi possiamo andare avanti anche con le slide faccio io ok qui una minima presentazione di chi siamo siamo Roma Capitale noi seguiamo il lavoro dell'open government partnership da ormai alcuni anni almeno due anni tre anni e abbiamo partecipato con diversi progetti chiaramente cambiano le stagioni cambiano i progetti al centro del nostro lavoro in particolare in questo momento noi siamo inquadrati come partecipazione dentro il dipartimento decentramento servizi delegati e città in quindici minuti che in realtà inquadra lo spirito con cui viene vista la partecipazione in questa particolare fase e come vedete ci sono diversi progetti che hanno a che vedere con la città dei quindici minuti questo frame questa metafora questo indirizzo politico è stata di vasta discussione in questo momento non solo chiaramente a Roma ma in tutto il mondo in Europa in particolare parte dall'idea di in qualche maniera creare dei poli civici nelle varie aree della città affinché tutta una serie di servizi e di opportunità sia una portata di mano nell'arco dei quindici minuti che non significa ovviamente raggiungere l'altro capo della città in quindici minuti anche perché per Roma sarebbe essere complicata come sfida ma avere nell'arco dei quindici minuti una serie di servizi appunto come dicevamo prima di opportunità quindi si sta ragionando molto in quest'ottica mappature mappature di poli civici di aree strategiche per la rigenerazione dei quartieri e per raggiungere tutta una serie di target e di stakeholder presenti in città in particolare nelle fasce più fragili in qualche maniera lavorando anche molto con i corpi intermedi e quindi come vedete ci sono anche altre iniziative stiamo lavorando all'arco della cittadinanza attiva delle reti civiche per cui realizzeremo tramite una colta tramite un bando a cui si potranno iscrivere tutta una serie di gruppi formali e informali e per poi essere in qualche maniera mappati come eccensiti come comunità di corpi intermedi enti del terzo settore con cui collaborare durante le varie attività partecipative di progettazione della città di 15 minuti e sarà una interfaccia online questo e inoltre di oggi la calendarizzazione della discussione in aula del regolamento sui beni comuni e l'amministrazione condivisa lavoreremo anche sul bilancio partecipativo quindi questo anche su piattaforma digitale su Roma partecipa questo è un po' il quadro con cui noi arriviamo in questa edizione all'interno del lavoro del quinto NAP e del forum prossima slide grazie qui appunto c'è il discorso che aveva fatto anche Maria Eva che cosa abbiamo fatto in questo anno abbiamo partecipato a queste cinque area di azione scegliendo alcuni tavoli specifici quindi siamo dentro il forum multi stakeholder per la governance la strategia del governo aperto ma siamo anche su tavoli che lavorano sullo spazio civico per le tematiche di genere e il coinvolgimento dei giovani ma siamo anche all'interno del tavolo sul rafforzamento della partecipazione della società civile quindi abbiamo partecipato attivamente alla creazione di un hub della partecipazione prossima slide per favore e storicamente stiamo anche lavorando su digitale inclusivo quindi siamo un po' su tutti i tavoli cosa è avvenuto per quanto mi riguarda per quanto mi riguarda come amministrazione locale durante questo anno in cui ho seguito più in prima persona le attività della community io ho come dire esperito sperimentato una serie di momenti virtuosi cioè ossia uno scambio fondamentalmente secondo i principi appunto della cooperazione collaborazione e del contributo attivo ho sperimentato una serie di momenti di scambio diffuso di competenze sulle varie tematiche del governo aperto uno scambio continuativo e interattivo quindi al di là del mio singolo tavolo anche al di là delle consuete situazioni in cui tutti noi ci troviamo a qualche maniera a confrontarci con altri colleghi o con la società civile che possono essere momenti di convegno singoli progetti la partecipazione a tutte le attività ha arricchito ovviamente il mio percorso professionale interagendo con altre amministrazioni o con organizzazioni che hanno in qualche maniera portato il loro punto di vista il loro know-how quindi una sorta ho mutuato i termini della sussiderietà ho sperimentato una sussiderietà orizzontale cioè un confronto tra PA ma anche tra PA e organizzazioni della società civile ma anche una sussiderietà verticale cioè un confronto tra la dimensione della prossimità che io vivo nel fare partecipazione con l'associazionismo e con i cittadini sul territorio confrontando con un livello nazionale e internazionale che in qualche maniera mi ha dato anche un sorta di mentorship con delle buone pratiche e degli strumenti possiamo andare oltre grazie e il confronto si è sviluppato sostanzialmente su due dimensioni su due piani che sono quelli che sono anche emersi cioè lavorare su delle norme che possano a farci acquisire nel tempo degli strumenti migliori per lavorare partendo da buone pratiche problemi in comune il confronto un ragionamento collettivo ma anche un piano di lavoro e di crescita pratico perché poi alla fine abbiamo sperimentato tutta una serie anche di piattaforme collaborative o di pratiche deliberative che ci hanno consentito di lavorare per esempio in particolare la creazione del lab della partecipazione per me che mi occupo di piattaforme anche digitali è stata un'occasione per sperimentare di SIDIM la famosa piattaforma insomma spagnola e quindi in qualche maniera ho sperimentato quelli che sono gli asset dell'OGP local cioè questo confronto tra una dimensione di territoriale di prossimità che si arricchisce nel confronto con una dimensione più ampia e viceversa l'accesso a un network globale di esperienze sul governo aperto una mentorship uno scambio alla pari un accesso a conoscenze e via discorrendo e quindi insomma sicuramente credo di aver dato un contributo ma di averne anche ottenuti molti da questo percorso e da qui nasce poi la prossima slide grazie al ragionamento sulle strategie future che sono anche il frutto sostanzialmente poi di ragionamenti che abbiamo fatto tutti insieme sostanzialmente abbiamo ragionato molto su come ampliare la partecipazione dei cittadini attraverso uno spazio pubblico digitale come è stato già detto interagire appunto attraverso diversi livelli di governo lavorare molto ovviamente sul personale dell'APA quindi lavorare sulle competenze perché questi sono settori innovativi l'APA comunque è potere esecutivo fondamentalmente quindi dovrebbe eseguire ma chi fa governo aperto invece fa un'amministrazione orientata all'innovazione alla creatività all'ascolto quindi servono delle norme di apertura che consentono a chi amministra di avere in qualche maniera una facoltà generativa che normalmente attiene alla politica e per fare per entrare in questa nuova dimensione in qualche maniera dell'agire amministrativo servono alcune competenze su cui bisogna puntare molto però appunto non basta serve anche una promozione di un'azione efficace dell'amministrazione partecipata e qui ci si rivolge più appunto a chi produce le norme in modo tale che la partecipazione dell'amministrazione sia centrale che non estemporanea cioè legata a stagioni politiche quindi con normative ad hoc come una legge sulla partecipazione innovativa ma anche canali di finanziamento e di supporto come avviene per la regione Emilia Romagna per fare un esempio virtuoso ma anche l'individuazione nell'amministrazione di uffici e figure professionali preposte e quindi si torna al tema delle competenze un ultimo argomento che mi ha sembrato interessante è che appunto nelle ultime settimane molti eventi come l'Open Government Week si sono svolti sul tema della partecipazione ci sarà stato un piano nella prossima settimana c'è stato un lavoro del Ministero dei Beni Culturali recentemente sulla partecipazione nella cultura cioè la gestione partecipare del patrimonio culturale quindi emerge sicuramente una galassia di dimensioni che sono quella della cultura della salute dell'ambiente della produzione alimentare della rigenerazione urbana o dell'amministrazione aperta in generale che stanno lavorando in questo momento su questo tema che evidentemente è un tema caldo un tema sentito di fare rete lavorare con i cittadini recuperare un rapporto tra cittadinanza e pubblica amministrazione che sappiamo essersi indebolito quindi forse un'altra strategia importante è quella di provare a unire questi mondi sostanzialmente quindi non soltanto le varie pubbliche amministrazioni nei confronti dell'amministrazione della società civile non soltanto il locale con il nazionale o l'internazionale ma proprio anche lavorare su queste comunità che esistono sui vari settori cultura salute eccetera che ho detto o canzi e possiamo andare avanti ancora e l'ultimo slide per favore ok grazie e quindi uno degli elementi sicuramente chiave che è emerso nel confronto di questi ultimi giorni è quello di lavorare anche molto sul lab per una promozione per un ampliamento della rete di aderenti che in qualche modo partecipando all'attività del lab può effettivamente integrare questo paradigma dell'open government che abbiamo visto prima e qui tutto cito anch'io che consenta alle tante dimensioni che ruotano intorno all'open government da quello della pubblica amministrazione della ricerca dell'università con la terza missione la cittadinanza e altre istituzioni insomma in qualche modo da provare a riunire questo mondo dentro l'ab attraverso tutta una serie di strumenti e tool che abbiamo messo insieme come gruppo di lavoro anche con l'ausilio del Formez dove ci sono appunto buone pratiche ci sono delle esperienze che siano di ispirazione degli strumenti di lavoro dei tool kit veri e propri che abbiamo selezionato attraverso una ricerca una test analisi molto approfondita ma anche e soprattutto tramite le comunità di pratiche con le tavole di lavoro dove appunto le varie comunità di pratiche che gli interagori del settore potranno in qualche maniera confrontarsi per contribuire anche digitalmente al discorso che poi durante le plenarie e altri momenti di confronto portiamo avanti questo in qualche maniera è il ragionamento che fa tesoro del lavoro svuoto quest'anno in qualche maniera anche della mia esperienza come amministrazione locale grazie 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 davvero Stefano soprattutto perché hai evidenziato molto bene la preziosità del lab della partecipazione che è stata lanciata proprio durante questa settimana del governo aperto e soprattutto la sua importanza a livello locale quindi si parlava di quando abbiamo ragionato sul report quadrimestrale dell'attuazione del quinto piano d'azione nazionale sottolineavamo proprio il creare quanto sia importante il creare strumenti che possano essere punti di riferimento a livello locale soprattutto per le agende locali io passerei la parola a Emma Miconi per il suo intervento sullo spazio civico con una tensione di genere vai Emma salve buonasera io sono Emma Miconi si sono stata chiamata come membro del forum multi stakeholder a trattare di uno dei temi penso maggiormente importanti dell'impegno di Open Government Partnership Italia che riguarda appunto lo spazio civico in particolare per le donne allora mi presento innanzitutto perché io sono sono qui sono nel sono nel nel forum anche perché sono presidente specialmente perché sono presidente di Fondaca che è fondazione per la cittadinanza attiva che è un team tank europeo nato a Roma nel 2001 e che appunto fa parte del forum multi stakeholder anche se abbiamo partecipato da tanti anni alle attività di Open Government Italia Fondaca utilizza la cittadinanza come un punto di osservazione delle trasformazioni che sono in corso nelle società moderne nelle società occidentali per animare il dibattito pubblico in Italia e in Europa e per noi la cittadinanza più che essere soltanto un diciamo trattiamo la cittadinanza più che dal punto di vista legale quindi dei documenti del passaporto insomma la cittadinanza intesa in quel senso fondiamo invece la nostra attività sulla definizione di cittadinanza come proprio un fenomeno o meglio ancora un dispositivo che in ambito sociale politico culturale e ovviamente istituzionale alla funzione di assicurare inclusione coesione sviluppo nella comunità politica e quindi dell'insieme dei cittadini queste attività le svolgiamo attraverso iniziative di consulenza di alta formazione e naturalmente anche di partecipazione a progetti sul campo e contatti e attività insieme a gruppi civici a realtà della pubblica amministrazione molto anche con le imprese private tengo a precisare che una particolare attenzione anche sul tema della partecipazione ed è anche un po' il punto di vista con il quale io partecipo all'attività di open government è quello di cercare sempre di raggiungere le persone perché la cosa importante a mio avviso è quella di favorire effettivamente la partecipazione anche dei singoli perché l'eccesso di regolamentazione e anche di amministrativizzazione alla quale assistiamo in questo periodo se da un lato ha sicuramente un versante positivo che è quello in qualche modo di legare le amministrazioni a degli impegni a delle procedure e a dei procedimenti che non siano episodici dall'altro corre un po' il rischio di rivolgersi soltanto a quel pubblico cittadini associazioni comitati realtà che già partecipano e rende più difficile invece alle persone diciamo normali alle quali invece noi tutti dovremmo tenere moltissimo che probabilmente sono anche al di fuori di questi circuiti e che devono naturalmente essere assolutamente raggiunte è un po' questo il senso anche del concetto di sussidiarietà circolare che è sancito dalla Costituzione nell'articolo 117 quando si parla appunto del fatto che lo Stato deve favorire le attività individuali e collettive per l'interesse generale e che quindi include esattamente tutto l'ambito e tutto il mondo diciamo della partecipazione anche al di fuori delle realtà organizzate che invece tra codice del terzo settore regolamenti per la partecipazione ed altre iniziative molto formalizzati rischia di rimanere fuori anche perché si rischia un pochino di indebolire tutto il versante della partecipazione che è fatto anche di normali conflitti di discussione aperta e di forme più avanzate di intervento e di proposta da parte dei cittadini allora detto questo io mi sono organizzata in questo modo per nei pochi minuti che dovrà durare il mio intervento prima di tutto desidero riportare alcuni elementi di contesto sullo spazio civico per le donne poi farò un breve riferimento a quello che è stato fatto nell'ambito dell'azione 4 proprio del quinto NAP rispetto alla promozione delle pari opportunità nello spazio civico e infine ho tirato fuori alcuni suggerimenti alcune idee alcune proposte alcune riflessioni che sono nate dall'analisi dei piani di valutazione quadrimestrali realizzati appunto dall'Open Government Italia e anche dalle discussioni e dai webinar degli ultimi giorni allora prima di tutto vi voglio ricordare che cosa si intende per spazio civico in ambito Open Government noi parliamo di libertà fondamentali lo spazio civico è quello spazio che include le libertà fondamentali che sono di espressione di riunione pacifica di associazione di tutela della privacy ma specialmente i diritti di partecipazione inclusiva che possano assicurare anche alle fasce diciamo meno ascoltate o meno presenti quali possono essere le donne i giovani le minoranze linguistiche o etniche le persone con disabilità e appunto i gruppi sottorappresentati un coinvolgimento pieno nella vita politica economica e sociale e quindi Open Government afferma che la promozione e la protezione dello spazio civico da parte dei governi è una precondizione per costruire società realmente inclusive in cui tutti gli individui possano sviluppare liberamente la propria personalità e partecipare ai processi decisionali pubblici e per questo motivo anche ho fatto la premessa di pochi minuti fa tra i moltissimi dati statistiche indicatori studi analisi ricerche che sono stati fatti sulla questione femminile sul tema delle pari opportunità mi fa piacere ricordarne uno che è parecchio attinente a mio avviso con il tema che stiamo affrontando il Gender Equality Index che è messo a punto dall'AGE e fa riferimento a dati del 2018 poi riattualizzati nel 2020 il nostro paese in Italia era il quattordicesimo nella graduatoria tra i paesi dell'Unione e guardate un po' che i domini di maggiore criticità in Italia riguardano il potere il tempo e la conoscenza è vero che in Italia grazie alle leggi sulla parità che sono state varate tra il 2011 e il 2017 la presenza delle donne nei ruoli e negli organi di più alto livello della politica e nei settori pubblici e privati ha conosciuto un aumento significativo ma è vero anche che sono incrementi significativi appunto che però rendono anche visibile al contempo quanta strada ci sia ancora da fare nel senso che le questioni legate alla partecipazione femminile allo spazio civico sono sempre centrali e anche sempre un po' contraddittorie facciamo facciamo l'esempio del periodo della pandemia e del lockdown anche lì si è evidenziato come la presenza femminile per esempio negli organi decisionali vi ricordate che c'erano vari comitati scientifici e tax force istituite dal governo hanno previsto la partecipazione femminile aumentato la partecipazione femminile dopo che un movimento di opinione molto forte in quel periodo che si chiamava dateci voce ha rivolto un appello sottoscritto da migliaia di organizzazioni e di donne anche perché la presenza femminile fosse incrementata in quegli organismi decisionali che invece ne prevedevano all'inizio poche o nessuna d'altra parte le donne durante la pandemia sono state assolutamente leader in ambito civico nelle professioni pensate a tutto il mondo sanitario ascoltando altresì naturalmente come sempre problemi enormi legati al mondo del lavoro e anche naturalmente a fenomeni come come la violenza di genere che hanno avuto in quel periodo un incremento quindi viviamo continuamente da una parte sulla necessità di ribadire e difendere la presenza delle donne negli organi che possono decidere negli organi istituzionali e d'altra parte una forza dirompente delle donne che invece sono presenti nella società civile nelle associazioni nei comitati nelle realtà territoriali dove molto spesso il traino la forza anche l'energia è molto spesso di genere femminile in altre parole le donne possiamo dire che sono trasversali a tutto anche nel Quinton Up ci sono degli impegni che sono relativi specificamente al tema della parità e delle donne ma in realtà evidentemente la presenza femminile coinvolge tutte le azioni del NAP specialmente nel settore della partecipazione senza il quale peraltro lo spazio civico non esisterebbe e che quindi fa sì che questo dilemma tra fare azioni ad hoc e invece come posso dire sottolineare e incrementare il punto di vista femminile in tutte le azioni del NAP va in qualche modo forse bisogna rifletterci e probabilmente anche maturare una posizione più avanzata e quindi più incisiva possiamo andare avanti nel Quinton Up quindi nel periodo anche che va dal 22 dal giugno del 2022 ad oggi sono state sostanzialmente cinque le azioni che sono state realizzate in coerenza con gli obiettivi che c'eravamo posti c'è stato un lavoro di allargamento delle presenze delle reti e delle relazioni alla community su cinquanta organizzazioni civiche sì cinquanta circa sei sono di genere e si era partite da due quindi è stato fatto un passo avanti naturalmente importante è stata realizzata una mappatura delle organizzazioni femminili è stato organizzato realizzato un elenco strutturato di queste associazioni che ad oggi formalmente sono 27 ma la mappatura è ancora aperta quindi si può assolutamente si deve anzi incrementare questa mappatura e quindi sono aumentate assolutamente le reti e le relazioni è stata riequilibrata la presenza femminile nel forum multi stakeholder rispetto a quella maschile è stata formalizzata espressa in diversi contesti in diversi sedi la volontà delle organizzazioni della società civile di lavorare insieme e anche di valorizzare l'interazione con le pubbliche amministrazioni coinvolte anche lato punto di vista femminile appunto sono state realizzate numerose attività di analisi analisi di documenti analisi di proposte organizzazione e partecipazione ad incontri pubblici ad eventi tematici sia di calibro nazionale che internazionale appunto per diffondere anche la conoscenza e l'informazione sull'esistenza dell'open government Italia Italia e infine ci si è occupati di alcuni impegni e attività particolari che hanno a che fare in particolare con la piattaforma di certificazione di genere realizzata dal dipartimento delle politiche di pari opportunità anche in ambito e nell'ambito dei finanziamenti previsti dal PNRR complessivamente le amministrazioni responsabili dell'azione sono state due funzione pubblica e dipartimento pari opportunità sono state coinvolte operativamente quattro pubbliche amministrazioni e quattro organizzazioni della società civile sono numeri non piccoli ma che naturalmente ci pongono anche il tema di una riflessione sulla quantità oltre che sulla qualità delle organizzazioni pubbliche e della società civile da coinvolgere analizzando appunto il materiale le riflessioni emerse negli ultimi mesi anche nell'ultima settimana ho tirato fuori alcune indicazioni la prima indicazioni che ci possono aiutare a riflettere appunto sulla costruzione di una strategia più incisiva e più inclusiva per il prossimo periodo il primo è sicuramente rafforzare sia lo sguardo che l'approccio trasversale sulle tematiche della parità di genere è quello che ho detto prima e concretamente questo potrebbe significare superare la settorialità nel prossimo NAP ma anche incidere maggiormente e quindi portare lo sguardo femminile ad esempio nell'attuazione e nel monitoraggio dell'avanzamento del PNRR sapete che molte delle realtà della community lavorano su questo monitoraggio e quindi anche lavorare sulla questione degli indicatori e sulla valutazione degli impatti in altre parole quali sono gli impatti significativi per la vita delle donne probabilmente su questo c'è molto da lavorare perché poi si possono fare valutazioni a tanti livelli l'importante però è porsi le domande giuste e poter contare anche su indicatori che parlino che significhino qualche cosa rispetto alle domande che ci si pone il secondo tema è assolutamente quello di rafforzare quel ruolo che possiamo definire di intermediazione delle istanze di genere di tutti gli attori che sono coinvolti negli impegni del NAP questo può significare rafforzare le attività di ascolto rafforzare la realizzazione di processi aperti dove la presenza femminile sia favorita e quindi selezionare temi con grande attenzione ma anche definire strumenti adeguati in questi processi di ascolto d'altra parte anche utilizzare appieno gli strumenti che esistono già ne ho parlato tutti quelli che mi hanno preceduto abbiamo l'Hub per la partecipazione che potrebbe sicuramente essere uno spazio da animare e frequentare anche in ottica femminile infine aumentare la numerosità degli attori ma anche la loro capacità di collaborazione su tutte le questioni che sono convergenti ancora ancora due due punti poi ti chiedo di sintetizzare il più possibile è importante incrementare l'attenzione su alcune questioni ne sono venute fuori tante il lavoro l'occupazione il digitale l'innovazione gli spazi i diritti digitali eccetera e quindi selezionare accuratamente le azioni da intraprendere perché non si può fare tutto ma anche considerare la valenza politica delle azioni del NAP perché il tema del diciamo mai del tutto risolto tra la politicità delle decisioni e la loro applicabilità nel momento in cui sono le pubbliche amministrazioni naturalmente non i governi direttamente a partecipare al NAP pongono a volte qualche problema infine io direi porsi degli obiettivi raggiungibili ma anche ambiziosi considerando vincoli opportunità di OGP sono le amministrazioni naturalmente che devono essere responsabili delle azioni però d'altra parte considerare anche l'enorme ricchezza in termini di organizzazioni civiche attive e sensibili sui temi femminili in Italia ce ne sono veramente una marea e per questo è importante il censimento e quindi eventualmente proporre almeno un'iniziativa comune e trasversale per le donne nel prossimo NAP e ho finito grazie grazie Emma il tema è molto importante quindi ci siamo dilungati giustamente ritornerà questo tema durante questo incontro chiedo a 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 Regione Emilia Romagna di accendere la sua ciao ti passo la parola buonasera buonasera a tutte buonasera a tutti faccio una verifica prima di iniziare per chiedere se le slide le mandano dalla non le abbiamo ricevute però può condividerle in maniera autonoma ok e allora arrivo mi perdonerete qua vedete in maniera sì benissimo benissimo Michela vai allora io mi presento sono Michela De Rio e rappresento all'interno del del forum multi-stakeholder rappresento la Regione Emilia Romagna e perché diciamo ho raccolto l'invito e ringrazio di questo tutto il tavolo a portare un mio brevissimo contributo sul tema del coinvolgimento dei giovani perché la Regione Emilia Romagna nel momento di ancora diciamo nel 2021 quando stavamo diciamo uscendo dalle fasi più emergenziali della della pandemia ha diciamo deciso sotto la vicepresidenza di Alice Line di mettere in campo un'azione inedita anche per la Regione Emilia Romagna ovvero quella di attivare un percorso di coinvolgimento e di ascolto vero e proprio delle realtà giovanili di tutto il territorio regionale non più filtrato da diciamo quei servizi che storicamente come Regione si sono avuti in qualità di partner diciamo di attivatori di politica giovanili ma con l'obiettivo di andare a intercettare ad aprirsi alle voci dirette delle organizzazioni giovanili di giovani e dei giovani stessi una operazione inedita vi dicevo perché non era mai stata fatta e questo aveva portato a un coinvolgimento diretto nel 2021 di quasi 3000 ragazzi e ragazze attività che è proseguita con l'istituzione del forum regionale e un'attività che si è rinnovata anche nell'anno scorso e per seguire anche quest'anno io non mi dilungo vi lascerò le invitazioni per chi vuole eventualmente approfondire ma in virtù di questa esperienza della regione apro con poche battute il tema dei giovani perché è importantissimo trovare nuove forme per rimetterli al centro il problema da cui parte il quinto NAP è proprio quello di cercare di mettere a fuoco mettendo a fuoco il problema chiave che è quello che noi stiamo perdendo una risorsa proprio nei processi di sviluppo e di crescita del nostro paese che storicamente erano fondati sulla disponibilità sulla presenza di giovani giovani adulti e oggi con quella parola che ha cognato il professor Rosina della Cattolica di Milano siamo dentro a un processo di degiovanimento di tutto il paese con un indebolimento davvero importante di quelle che sono le possibilità che hanno le giovani generazioni nel contribuire fattivamente concretamente al cambiamento e alla crescita del paese e questo è un problema non soltanto di tipo generazionale non è soltanto un problema di tipo sociale è un problema anche di tipo economico e proprio di sviluppo di possibilità di sviluppo anche rispetto ai nostri ai paesi europei agli altri paesi europei che mostrano questo problema in misura in misura ridotta e non solo abbiamo anche il diciamo il scusate non volevo ho un problema di rispetto a non voglio vedete vedete la diapositiva sì la vediamo Michela ma casomai togli il video se hai un problema di connessione così magari si vede meglio solo le slide perfetto grazie consiglio questo grazie perché sennò non inutile cioè aggiungere anche che sicuramente i giovani come le donne sono una dei soggetti che più sono stati colpiti dalla pandemia e diciamo tutte le difficoltà che mostriamo come sistema proprio nell'attivare e garantire quelle forme di partecipazione dei giovani tanto da renderli protagonisti nelle politiche che li che li riguardano quindi abbiamo davvero necessità di attivare nuove forme di dialogo e di ascolto dei giovani per questo dentro al Quinton Up ci siamo assunti l'impegno di creare questi nuovi spazi di partecipazione dei giovani attraverso attraverso la costruzione di una loro presenza prima di tutto dentro proprio dentro al forum multi-stakeholder l'idea è proprio quella di allargare aprire le porte del forum alle realtà che diciamo rappresentano le istanze delle giovani generazioni su quali campi vogliamo attivare sicuramente sui temi che a loro risultano e sono più di interesse pensiamo alle modalità di formazione alle nuove modalità alle nuove competenze lo ricordiamo 2023 hanno delle competenze nuovi lavori nuovi nuclei familiari nuove forme di partecipazione sociale e soprattutto vogliamo diciamo promuovere il loro coinvolgimento attivo nell'ambito proprio dell'attuazione del monitoraggio del PNR che come sappiamo prevede al suo interno risorse molto molto importanti sul target giovani ed è assolutamente diciamo prioritario provare a coinvolgere le giovani generazioni in maniera diretta perché è così diciamo importante perché diciamo gli studi e diciamo le ricerche mostrano come nell'ambito delle politiche giovanili non sia delle politiche giovanili o nell'ambito delle politiche che hanno effetti diretti sulla vita dei giovani e delle giovani non è solo importante trovare soluzioni che funzionino ma con i giovani è importante sperimentare trovare sperimentare soluzioni che loro per primi riconoscono come soluzioni di valore perché così le politiche possono diventare politiche trasformative capaci di generare valore positivo per le persone e per i territori e abbiamo bisogno di coinvolgerli anche per trovare delle nuove modalità delle nuove lenti che ci aiutino anche a riconoscere e a monitorare i nuovi fenomeni per i quali non abbiamo ancora gli strumenti per misurarli per intercettarli pensate diciamo che diciamo solo alcuni cito tre neologismi che non facevano parte del nostro della nostra cassetta proprio degli strumenti che sono knit expa startupper tre parole nuove che rappresentano fenomeni e mondi al loro interno estremamente variegati e diversificati che abbiamo bisogno di iniziare a conoscere in maniera molto più approfondita e in maniera più dettagliata attraverso proprio nuovi dati la raccolta di nuovi dati sicuramente in forma aperta con chi stiamo vogliamo quindi procedere il lavoro che stiamo facendo lo ricordo il regolamento del forum multistakeholder è stato proprio scritto insieme a orizzonti politici un'organizzazione di giovani vogliamo proseguire in maniera molto concreta il lavoro che stiamo già facendo con la consulta nazionale per il servizio civile l'agenzia nazionale dei giovani il gruppo di lavoro del forum agenda 20-30 e diciamo le organizzazioni del territoriali che ci consentiranno di ampliare la rete fare network perché questo è diciamo il modo che con il quale possiamo portare una maggior presenza dei giovani e delle loro istanze all'interno del dibattito pubblico del dibattito io ti chiudo grazie grazie mille Micaela scusami per la per la fretta che ti ho messo ma dobbiamo recuperare qualche minuto torneremo anche su questo tema chiedo a Luca Nervi di prendere la parola Luca Nervi conferenza delle regioni buongiorno ciao buongiorno a tutti buongiorno colleghi grazie di questa opportunità mi scuso in anticipo per l'estrena sintesi che darò un tema che invece è gigantesco come la cultura dell'integrità infatti ho fatto un'unica un'unica slide vi lascio questa mappa che cerca appunto sinteticamente di illustrare un po' tutti i temi che già sono stati toccati dall'area di azione 2 del quinto NAP del piano nazionale del governo aperto ed è anche l'auspicio per toccare altri temi e aumentare incrementare la strategia di prevenzione della corruzione per l'integrità che il quinto NAP ha portato avanti sappiamo che la cultura dell'integrità è un presupposto direi di più una condizione abilitante per le politiche del governo aperto per politiche vere di governo aperto che da non confondere con le politiche di consenso dobbiamo avere una cultura dell'integrità molto forte all'interno e agli esterno dell'ente per quello che ho citato la cittadinanza organizzativa nell'ambito degli enti e la cittadinanza attiva nell'ambito della società sapete che tra gli elementi di cittadinanza organizzativa all'interno degli enti o delle aziende private ve ne sono alcuni che fanno diretto riferimento all'integrità all'etica individuale alla lealtà alla fiducia reciproca con i colleghi e con l'azienda di appartenenza e stessa cosa si può dire per quanto riguarda la cittadinanza attiva nella società questi due elementi sono fondamentali e il ruolo delle organizzazioni della società civile qua può essere molto importante sia di supporto alle pubbliche amministrazioni di supporto ai responsabili della prevenzione della corruzione e trasparenza come il sottoscritto e ovviamente come facilitatore verso i cittadini per far sì che possano comprendere e partecipare alle politiche del governo aperto e più in generale alle politiche pubbliche ma cosa significa fare prevenzione quindi prevenzione non è soltanto attivare delle misure organizzative normative regolamentari per far sì che il tessuto dei singoli enti sia più ostile alla corruzione o comunque alla cattiva amministrazione un elemento fondamentale dicevo è la cultura dell'integrità questo ci permette di agire su due delle principali variabili alla base della corruzione sapete che ricorderete il triangolo della frode con tre apici uno dei quali è la variabile organizzativa e cioè i punti deboli normativi regolamentari e procedurali che consentono più facilmente l'instaurarsi di fenomeni corruttivi ma ci sono anche gli altri due apici altrettanto importanti che sono quello delle motivazioni individuali e quello della diciamo del mood sociale che accompagna spesso in maniera diciamo non del tutto ostile a fenomeni di piccola grande corruzione ebbene questi due due variabili quella dell'etica individuale delle motivazioni del singolo soggetto e quella invece del tessuto sociale che spesso può essere ostile o invece tollerante rispetto a questi fenomeni possiamo condizionarli con lo sviluppo di una vera e propria cultura dell'integrità sviluppare condizioni di cultura dell'integrità ci aiuta quindi a proteggere il valore pubblico a cui le pubbliche amministrazioni come sapete sono finalizzate e questo comporta un nuovo ruolo anche del responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza nasce con la 190 come sapete una serie di adempimenti fanno sì che il nostro ruolo sia stato vissuto all'inizio come un ruolo più da controllore o da ispettore in questi anni il nostro ruolo si sta evolvendo e per quanto riguarda la cultura dell'integrità l'RPCT dei singoli enti piano piano si sta trasformando anche in un promotore della legalità e dell'integrità all'interno dell'ente e un agente di cambiamento della cultura organizzativa tutto questo è stato l'oggetto di molte modalità e strumenti che sono stati già attivati dal quinto piano nazionale per il governo aperto nell'area numero due come vi dicevo e qui sulla sinistra della slide ho cercato di ovviamente in maniera molto sintetica enucleare un po' gli elementi fondamentali ovviamente la formazione per competenze per l'integrità si passa dai dilemmi etici a soffermarci sul ruolo e sulle funzioni di ciascun dipendente operatore pubblico a questo riguardo voglio ricordare uno dei principi del nostro ordinamento che spesso si dimentica che è quello della separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa l'indirizzo politico che è il senso del decreto legislativo 165 spetta agli organi di indirizzo politico e la gestione amministrativa che spetta invece alla dirigenza la confusione di questi ruoli e funzioni può generare conflitti di interesse e l'invasione reciproa di campo che sicuramente è considerata una delle condizioni abilitanti per l'insorgere di fenomeni corruttivi o comunque di cattiva amministrazione e poi c'è ovviamente il grosso tema della leadership etica quando parliamo di cultura e di cultura organizzativa è fondamentale l'esempio e il modello che possono essere i vertici dell'amministrazione compresi compresa la dirigenza quando parlo di leadership etica quindi intendo il comportamento concreto dei dirigenti pubblici che condiziona in un senso o nell'altro che condiziona in un senso o nell'altro ovviamente il comportamento di tutta l'organizzazione è stato toccato nelle nostre azioni del quinto NAP ovviamente anche il codice di comportamento che detta le regole etiche e non solo per quanto riguarda le nostre organizzazioni l'istituto del whistleblowering che si basa proprio su una consapevolezza etica di poter segnalare le cose che non vanno le reti sono state inaugurate delle reti molto importanti ad esempio quella fatta dalla SNA con i responsabili della prevenzione della corruzione e trasparenza con la partecipazione di ANAC e di altri soggetti pubblici e privati ovviamente le OSC le reti miste come vi diciamo come il nostro stesso forum multi-stakeholder e non a caso ho citato anche il Piau questo mi dà la possibilità in conclusione di citare come vedete in basso a sinistra alcuni articoli della Costituzione del 54 il 97 il 98 che sono di riferimento per quando parliamo di cultura e dell'integrità il 54 che dice che gli impiegati pubblici devono svolgere le proprie funzioni con lealtà con con discipline ed onore il 97 il più noto sul buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione e il 98 che spesso ci dimentichiamo i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione ma non tanto come viene spesso inteso l'esclusività del rapporto di lavoro ma l'esclusività di raggiungere gli obiettivi di valore pubblico non a caso sono dentro al Piau come fossero di interesse pubblico che deve prevalere con l'interesse sull'interesse individuale e particolare l'ultimo accenno su governo aperto come approccio by design delle politiche pubbliche questo fa sì che le politiche di governo aperto possano accrescere anche la coscienza civile sulla partecipazione e sull'integrità grazie grazie Luca passo la parola a Morena Ragbone di Regione Puglia che interviene sul PNRR sull'apertura del PNRR Open PNRR grazie Maria Eva vi chiedo innanzitutto conferma dell'audio condivido anche le slide sì sì sente bene grazie benissimo grazie a te grazie arrivano datemi conferma così metto in modalità presentazione si vedono? confermo grazie allora io raccolgo idealmente testimone come ultimo dei componenti del forum che intervengono sulle aree diciamo di principale attenzione delle nostre attività perché il tema dell'Open PNRR ma di dell'Open in generale è un tema che a me in particolare ma anche come rappresentante di regione Puglia quindi della mia amministrazione sta particolarmente a cuore all'interno del PNRR le azioni che vanno sotto appunto le subazioni gli interventi sotto l'azione 5 utilizzano una terminologia che dovremmo imparare a riconoscere e a valorizzare di più anche nel quotidiano innovazione digitale e sono due termini ancora ancora familiari ma è quell'inclusiva che va a mio parere a caratterizzare non soltanto le criticità attuali ma già a delineare la strada che dobbiamo intraprendere l'inclusività è un concetto molto complicato perché è un concetto che si porta dietro l'idea di cittadinanza digitale che vedete collegato all'intervento alla suffubazione 1 dell'azione 5 ma si porta dietro tanti altri concetti per esempio il tema dell'accessibilità digitale che non è una questione da poco perché probabilmente sia lato amministrazione ma anche lato cittadini molto spesso è trascurata e poco conosciuta cioè le si dà meglio poca poca rilevanza allora la standardizzazione delle attività e l'apertura dei dati che è collegato all'intervento al secondo degli interventi compresi nell'azione 5 possono essere una chiave di lettura anche in questa direzione perché se includere vuol dire consentire a chiunque io uso spesso questa espressione perché non voglio caratterizzare il soggetto che può essere incluso sia persona giuridica persona fisica eccetera il chiunque mi sembra un termine che ha più valenza rispetto alla classificazione che un giurista potrebbe dare dei soggetti appunto da includere ma l'idea che chiunque possa partecipare all'innovazione sentirsi parte dei processi dovrebbe diventare se ancora non lo è la caratteristica dell'agire pubblico in primis in quanto chiaramente parte di una pubblica amministrazione ma parte dell'agire mi permetto anche di noi come cittadini quindi l'idea di una società che co-crea sicuramente ma che compartecipa anche ai fallimenti delle politiche pubbliche mi permetto anche di fare questa precisazione il fatto che si faccia parte di un'organizzazione come OGP e dal nostro punto di vista anche del forum multi-stakeholder dovrebbe prendere proprio questa direzione quindi io partecipo io co-progetto io co-creo ma sono anche corresponsabile di tutto quello che poi viene realizzato e viene portato avanti il focus io ho partecipato personalmente alle attività sto partecipando personalmente alle attività della 502 quindi quella sull'istanda aperti per l'inclusività ed è vero che anche da normativa io non a caso ho inserito all'interno di queste sintetiche slide il coma 1 dell'articolo 1 del decreto trasparenza il focus resta quello del monitoraggio della spesa pubblica che è però mi permetto di sottolinearlo perché la norma stessa ce lo dice è uno dei tanti focus la trasparenza è sì finalizzata ad un monitoraggio quindi viva i dati aperti che ci danno la possibilità di farlo questo monitoraggio e danno ricitando a chiunque la possibilità di fare questo monitoraggio ma prima ancora lo scopo di tutelare i diritti dei cittadini io prima citavo in altro contesto la carta dell'amministrazione digitale ecco allora come cittadini dovremmo imparare a valorizzare i diritti di chiunque anche in questo caso perché limitare i soggetti varrebbe equivarebbe a un limitare i diritti dei soggetti e dovremmo imparare a eliminare le connotazioni quindi far sì che questa tutela dei diritti comprenda tutti i diritti di tutti i soggetti come dicevamo prima quindi quello che viene fatto compresa l'apertura dei dati ed ecco perché l'apertura del PNRR dei dati del PNRR diventa un anello fondamentale dell'idea stessa del concetto generale di apertura diventa un elemento per arrivare alla tutela dei diritti quindi il focus che poi è il focus di tutta la disciplina soprattutto comunitaria degli ultimi anni diciamo va ricordato perché c'è c'è un sistema normativo c'è un framework normativo che ha un cuore e questo cuore è la tutela dei diritti da qualunque aspetto poi le cose vengano viste quindi l'idea dell'apertura dei dati che dicevamo stiamo cercando di promuovere in tutte le forme nonostante devo dire da parte delle amministrazioni io volutamente nelle slide non ho inserito i soggetti che fanno parte del lavoro sulla 502 però indirettamente vedete qui alcuni alcune screenshot prese da siti dove sono già disponibili alcuni dati aperti che si riferiscono nello specifico al PNRR tranne ovviamente il lavoro di ANAC che è un po' più ampio in questa direzione però si permette anche di capire come le stesse amministrazioni stanno da un po' di anni a questa parte posso anche dire a fasi alterne questo è un momento buono perché c'è grande richiesta di dati c'è grande richiesta di capire il lavoro che le amministrazioni fanno mi riallaccio anche a un'idea che ha lanciato ma arriva più che altro a trattato all'interno del suo intervento iniziale cioè la capacità delle amministrazioni di comunicare che deve essere una chiave anche di lettura molte volte e parlo ovviamente da soggetto che partecipa alle attività di un'amministrazione pubblica molte volte facciamo tanto facciamo anche bene ci manca la capacità di portare queste informazioni all'esterno perché giustamente l'utente il cittadino non vede quello che c'è dietro ed è giusto anche che sia così vede il prodotto ma il prodotto è soltanto l'ultima fase di tutto un lavoro molto complesso e molto articolato che dovremmo imparare a comunicare anche in questa logica faccio un velocissimo passaggio su qualcune cose che sono già state realizzate le vedete sulla sinistra il lavoro sulla standardizzazione dei dati dei contratti pubblici un approccio anche civico alla verifica dei dati del PNRR che è stato portato avanti viene portato avanti da una delle organizzazioni della società civile che fanno parte del lavoro sulla 502 la limatura ecco che viene fatta posso permettermi anche di dire quasi quotidianamente oggi abbiamo intrattenuto tramite canali non ufficiali quindi altre modalità un'ulteriore conversazione proprio sulla capacità di questi dati di essere valorizzati e di essere riutilizzati e soprattutto anche a mio parere un altro degli aspetti molto belli del lavoro che si sta producendo all'interno di OGP la capacità di comunicare tra amministrazioni che è una cosa che devo anche dire al di fuori di questo contesto forse negli anni passati ho visto più raramente quindi è un altro degli aspetti che va sottolineati che spuggono ma che qui dentro invece si vedono dove andiamo quindi qual è in prospettiva quello che noi vogliamo aggiungere sicuramente le proposte vanno in direzione di fare una valutazione quindi che le pubbliche amministrazioni tramite l'apertura di questi dati cominciano anche a ripensarsi quindi prima ancora di arrivare alle dati canoniche delle valutazioni previste biennali normalmente di monitoraggio si possa semestralmente annualmente rianalizzare questi dati noi parliamo sempre di amministrazioni data driven ecco il senso è questo facciamoci guidare dai dati quindi apriamo i dati a beneficio del chiunque ma a beneficio della stessa amministrazione una valorizzazione data sicuramente a due degli interventi trasversali degli obiettivi trasversali del PNRR quindi la valorizzazione dei dati di genere e dati generazionali la capacità comunicativa che deve essere portata avanti anche tramite la realizzazione di delle dashboard che consentano a cittadini non particolarmente alfabetizzati perché questo è anche un'ennesima chiave di lettura del chiunque di prima di capire comprendere i dati e lavorando in sinergia con altri interventi previsti all'interno del DOGP quindi all'interno del Quinton App diffondere le competenze di base anche sulla lettura e all'analisi dei dati Maria ti rubo dieci secondi soltanto mi permetto visto che sono l'ultima del forum che interviene su questi piccoli aspetti volevo fare io un personale ringraziamento alla mia amministrazione a tutto lo staff di OGP e a tutti coloro amministrazioni e OSC che hanno contribuito alla realizzazione di questa settimana bellissima anche perché ci permette e ci dà a noi ma anche a tutto il contesto al nostro paese delle ulteriori opportunità grazie grazie a te davvero Morena grazie grazie ancora io non pongo tempo in mezzo passo subito la parola a Valentina che in conclusione a sintesi di da dove stiamo arrivando cioè il quarto il terzo report di attuazione del piano di azione nazionale le riflessioni che il lancio della nuova strategia eh globale e gli interventi dei rappresentanti del forum che ci hanno preceduti eh ci porta a raccontare quali sono le nostre proposte concrete come forum multi stakeholder eh che lanciamo a tutta la community come possibili aree prioritarie d'azione nella nuova strategia nazionale prego Valentina accendi il microfono vale scusate non ero resa conto allora ricomincio grazie a tutti grazie a Mariaeva e grazie ai componenti del forum che mi hanno preceduto ora io sono qui eh in veste di portavoce lato PA del forum office holder per il governo aperto per eh parlare di quello che faremo in futuro diciamo abbiamo visto finora che cosa abbiamo fatto cosa è presente nel punto NAP le variazioni i vari sforzi e gli impegni dei singoli soggetti coinvolti siano questi ehm pubbliche amministrazioni società civili adesso cerchiamo di ehm vedere che cosa invece ci stiamo eh su che cosa stiamo lavorando e come ha già anticipato Mariaeva noi come forum ehm diciamo che eh cerchiamo di instaurare innanzitutto un dialogo con il vertice politico il nostro ministro eh per la pubblica amministrazione e quindi abbiamo proposto un'apertura di un dialogo una continuità di dialogo attraverso degli incontri da programmare almeno un paio di occasioni in anno ma va fatta una precisazione a a monte per arrivare ad avere un'interlocuzione con il ministro per fare le nostre proposte per sottoporli i temi i terreni di collaborazione eh dobbiamo fare un passaggio interno molto importante che arrivi a dire che undici più undici non fa ventidue ma fa uno e questo è un passaggio importante perché noi abbiamo undici PA che si trovano a confrontarsi con undici e organizzazioni della società civile dobbiamo tutti imparare un linguaggio diverso perché è chiaro che noi lato PA abbiamo delle dei vincoli delle se vogliamo anche delle limitazioni per certo verso per certi versi che non hanno i rappresentanti della società civile ma che hanno invece altri vincoli altre limitazioni o sellecitazioni diverse quindi il lavoro che noi dobbiamo fare e che abbiamo cominciato a fare finalmente come dire incontrandoci soprattutto è molto importante l'incontro in presenza e l'abbiamo fatto a novembre l'abbiamo rifatto pochi giorni fa stiamo cercando appunto di imparare questo linguaggio nuovo perché alla fine il risultato non deve essere un compromesso tra quello che dicono le PA e quello che dicono le organizzazioni della società civile e non deve nemmeno essere la somma di quello che dicono gli uni e gli altri ma deve essere effettivamente una sintesi quindi una lingua una grammatica nuova che possa porci come interlocutore autorevole nei confronti appunto del vertice politico perché noi ci siamo confrontati e è nostra come dire mission motivo per cui siamo stati eletti e per cui rappresentiamo i nostri le nostre organizzazioni è quello di fare delle proposte fare delle proposte e cercare di mettere a disposizione anche i nostri le nostre competenze perché appunto è proprio la eterogeneità della composizione del forum che è un vero e proprio punto di forza quindi noi recentemente in occasione proprio del lancio dell'occasione della Open Gov Week abbiamo mandato al ministro Zanghillo una serie di proposte proposte la prima diciamo è al di là della proposta appunto di un dialogo siamo contenti che lui appunto ha dichiarato di aver ricevuto le nostre proposte e di essere di considerare una base di partenza da cui poi andare avanti e svilupparle quindi possiamo immaginare anche ulteriori terreni di collaborazione da dove siamo partiti siamo partiti da un tema importantissimo e cruciale che ci vede proprio in questa fase di attuazione del PNRR quindi una fase molto delicata a dover garantire sempre di più l'apertura la integrità e la trasparenza dei processi decisionali pubblici sappiamo bene che esistono degli strumenti in questa direzione strumenti di hard law strumenti di soft law strumenti diciamo nel nostro ordinamento gli strumenti di hard law purtroppo ancora non ci sono cioè quindi delle leggi organiche razionali che possano dare questa spinta in avanti però abbiamo degli strumenti di soft law degli strumenti di soft law che dai codici di condotta dalle possibilità di come dire di creare delle regolamentazioni su base ministeriale sulla possibilità di creare un registro per i portatori di interessi sono tutti strumenti fondamentali e prioritari per poter garantire questa apertura dei processi decisionali e quindi un sistema sempre più integro e appunto trasparente diciamo che le tante iniziative che già sono presenti oggi alcune molto significative come quella del mistero delle imprese del Made in Italy l'ex Mise proprio stamattina ricordava Marieva abbiamo fatto un incontro con Giovanni Savini che è l'RPCT del Mise e con Federico Anghelè direttore del Good Lobby sono entrambi componenti del forum di stakeholder ed entrambi hanno messo a disposizione del forum la loro fortissima competenza in questa materia dimostrandoci che si può fare perché appunto l'Uise ex Mise effettivamente l'ha fatto optando per un modello light optando per un modello abbastanza agevole che non corre il rischio di vedere la sanzione da parte del garante della privacy come è successo in altre esperienze al ministero dell'ambiente ma questo si può fare quello che serve è la volontà di farlo per questo ecco al di là dei singoli strumenti sarebbe auspitario con questa la proposta che abbiamo fatto al ministro un coordinamento a livello nazionale accompagnato dalla volontà politica di garantire questi processi decisionali pubblici sempre più aperti trasparenti e inclusi coordinamento a livello nazionale vuol dire immaginiamo un'anagrafe unica gestita proprio da una DSP dove si possano scusate iscrivere tutti i portatori di interessi perché non è non possiamo dire che è una cosa sbagliata avere rapporti con i portatori di interessi è necessario è necessario per una normale politica normale economia di un paese soprattutto è qualcosa che di fatto c'è e quindi è opportuno regolamentare proprio in un'ottica di trasparenza non è questo l'unico tema che abbiamo presentato il ministro l'altro tema riguarda la tutela del ministro blovers sentiamo benissimo quanto è delicata la situazione in questo momento nel nostro paese dove nonostante un andare avanti a livello legislativo attraverso un nuovo decreto che ha recepito finalmente la direttiva comunitaria pur tradendola in alcuni punti questo va detto e quindi ci sono delle criticità che dovremo affrontare però ecco nonostante passi in avanti sotto il profilo legislativo c'è ancora una fortissima resistenza culturale e quindi è importante il ministro bloving è uno strumento fondamentale quando parliamo di cultura dell'integrità e di lotta alla corruzione e sono dei pilastri fondamentali dell'open gov allora ecco incentivare la storia del whistleblower è sicuramente qualcosa di fondamentale qualcosa di necessario ci sono gli strumenti per farlo partendo bottom up ci sono gli strumenti le buone pratiche che sono state realizzate nella comunità di pratica che ha citato prima Luca Nebbi la comunità di pratica del BRPCT dove a valle di un percorso laboratoriale previsto dal NAP perché il NAP prevedeva un impegno specifico di creare delle reti a tutela del whistleblower si stanno individuando delle buone pratiche che poi speriamo possano essere ridicate in altre amministrazioni ecco potrebbe essere bello anche a questo su questo ambito immaginare il ruolo centrale del BFP una sorta di endorsement di queste buone pratiche per poi poterle appunto promuovere diffondere il più possibile perché poi avremo tutti una come dire delle ricadute positive altro tema che questo è già affrontato sia da da Stefano Rollo sia da Luca Nervi il tema e anche da Morena Ragone il tema delle semplificazioni semplificazioni che sono necessarie ma che devono andare in una direzione non di contrasto con la cultura dell'integrità ma di razionalizzazione e questo è sicuramente molto molto importante nell'ambito della semplificazione che poi è comunque sempre nell'ambito poi se vogliamo della trasparenza ricordiamo che poi ci sono altri ambiti altri terreni sui quali con noi come forum come dire ci mettiamo a disposizione per lavorare per fare un tema fondamentale la digitalizzazione ecco Morena Ragone ha già detto moltissimo su questo tema ma è un tema veramente importante ed è il tema di oggi e di domani considerando anche le sfide che la tecnologia ci pone sempre di più e la strategia del governo aperto deve essere una strategia più possibile pronta a ricevere e a reagire alle sollecitazioni della tecnologia poi c'è il problema della partecipazione la partecipazione è necessaria benvengano tutte le iniziative che possano in qualche modo incentivare la partecipazione soprattutto nel momento storico in cui si assiste un po' a una sfiducia nei confronti del decisore pubblico del decisore politico eccetera quindi incentivare un dialogo con i cittadini è importante noi come forum abbiamo preso una abbiamo raccolto una sollecitazione che ci è stata fatta dalla community in cui ci è stato chiesto di prendere in particolare considerazione non solo le stanze parlando di diversità e inclusione non solo le stanze relative alla problematica della parità di genere ma anche a quella generazionale e quindi un'attenzione particolare ai giovani quindi stiamo cercando adesso di convogliare le nostre forze per capire cosa possiamo fare non solo per garantire nel prossimo forum magari una maggiore rappresentatività ad associazioni che prima erano non state nel gioco di parola troppo giovani per essere rappresentate perché non erano ancora da molto tempo nella community ma a radio risonti politici hanno comunque dato un contributo nella redazione del regolamento ma soprattutto trovare trovare il modo di allargare la community e individuare anche altri soggetti considerando che poi per giovani lo possiamo termine giovani lo possiamo definire veramente sotto tante forme giovani adulti giovani ragazzi giovani bambini e anche su quello c'è da lavorare perché il cittadino del futuro consapevole pronto a partecipare è un cittadino che viene formato in età precoce e quindi deve essere precocemente esposto non solo al tema dell'integrità e della legalità ma anche al tema della partecipazione attraverso appunto la diffusione degli strumenti del governo aperto e qui tocca un altro punto fondamentale che è quello delle competenze perché per poter parlare di governo aperto occorre stimolare sviluppare delle competenze che sono quelle per l'integrità ma sono quelle anche che consentano di utilizzare i principi gli strumenti i metodi del governo aperto quindi benvenga ogni tipo di formazione ogni tipo di sensibilizzazione in questa direzione come ad esempio quello che offre la community di Open Gov attraverso i MOOC accessibili direttamente dal sito come ad esempio il corso sul governo aperto che servirà per stimolare delle competenze per i futuri leader innovatori di domani che è offerto appunto dalla SNA e abbiamo poi il link nella chat questo per dirvi il governo aperto serve il governo aperto al formamento vedo Maria Eva che si affaccia ma io passerei direttamente al punto successivo che è in realtà collegato perché noi avremmo adesso prevista una sessione di domande e risposte quindi siamo pronti a rispondere alle vostre domande però ci sono ancora due argomenti che padevano essere un attimino discussi da una parte abbiamo la restituzione della discussione del 20 aprile scorso molti di voi hanno partecipato nei sottogruppi dedicati alle singole materie quindi sappiamo che c'è stato una elaborazione per cercare di individuare quelle che sono le aree come dire che cosa abbiamo imparato fino a oggi da quello che abbiamo fatto che cosa possiamo fare e dove possiamo andare sulla base anche di un coordinamento con la strategia nazionale l'altra cosa di cui dobbiamo parlare invece è il premio il premio per il government quindi io direi se c'è qualche domanda siamo pronti a rispondere no domande Valentina domande non ce n'è ci sono dei commenti che ci confermano insomma la bontà delle riflessioni che abbiamo voluto condividere oggi con la community o comunque con gli iscritti a questo webinar due commenti uno sulla trasparenza che deve diventare accountability deve essere semplice deve essere comprensibile di Valte Pellegrini un altro di Filomena Marotta che sottolinea l'importanza di lavorare sul coinvolgimento nel policy making della categoria sottrappresentata delle donne quindi anche qui una conferma di una direzione importante da prendere anche sui giovani Laura Gamberini e anche Chiara Luisa Pignaris mi scuso con tutti loro per non leggere per diseguamente i loro commenti però sono assolutamente benvenuti e vanno nella direzione che abbiamo bisogno di questo feedback insomma abbiamo ci servono per capire se la direzione è quella giusta come dicevi tu Valentina passiamo la parola a no vorrei parlare io del premio ah ok due parole sul premio perfetto vai e allora sul premio noi abbiamo ci sono state presentate come forum multi stakeholder delle candidature e delle pre candidature ecco perché poi la candidatura deve essere una a livello nazionale per il premio Open Gov dunque abbiamo fatto una valutazione all'interno del forum il 9 maggio scorso e abbiamo deciso di presentare come candidato a questo premio il modello italiano di prevenzione della corruzione le altre due candidature che c'erano state sottoposte assolutamente valdissime importantissime riguardavano il dibattito pubblico e gli open data la banca dati promossa da ANAC perché abbiamo optato per una candidatura di più ampio respiro che essenzialmente vede nel tavolo interistituzionale di coordinamento nella lotta alla corruzione che si svolge presso il ministero degli esteri il suo come dire centro nevralgico abbiamo optato per questo per questa candidatura perché è più globale ogni conferenza e in qualche modo riconduce al suo interno i vari pilastri del governo aperto vorrei dire in maniera forse un po' provocatoria che l'anticorruzione e la cultura dell'integrità racchiudono all'interno la partecipazione la trasparenza l'accountability e in maniera ancora più provocatoria voglio fare mia la proposta avanzata di inserire un diciottesimo obiettivo di sviluppo sostenibile oltre a 17 che già abbiamo che è zero corruption perché oggi come oggi la corruzione è ricompresa la lotta la corruzione è ricompresa all'interno del sedicesimo però è anche vero che la corruzione ostacola e rende di fatto impossibile la realizzazione della maggior parte degli altri obiettivi quindi perché non immaginare sognare alto immaginare appunto un zero corruption in modo da raggiungere più facilmente gli altri obiettivi l'idea di questo premio è il candidare quindi una sinergia inedita nel nostro paese perché per far da qualche anno che questo tavolo interistituzionale raccoglie in maniera sistematica e razionale società civile e pubblica amministrazione veramente in un'ottica open gov perché noi lo facciamo noi in acqua e lo facciamo nella strategia però questo è un tavolo del ministero coordinato appunto dal ministero degli esteri dove ci sono tantissime amministrazioni e addirittura lo sforzo di coinvolgere della società civile è sempre come dire continuo e costante anche oltre quelle che sono già rappresentate quindi questo è molto interessante e si traduce tutto questo in risultati interessanti e positivi sul posizionamento italiano e sulla reputazione italiana nell'ambito della lotta alla protezione se oggi si parla di un modello italiano qualcuno prima di me ha detto raccontiamo anche il bene raccontiamo le cose positive questo va detto perché noi siamo sempre pronti a dispiacerci per tutto quello che non funziona e effettivamente sono molte le cose che non funzionano però va anche detto che ci sono degli c'è una nuova reputazione italiana nella diplomazia giuridica internazionale grazie appunto agli sforzi di questo tavolo di coordinamento grazie a persone come Giovanni D'Astaglia Polcini che ha avuto la presidenza del gruppo anticorruzione del G20 e cosa abbastanza inedita nella come dire grammatica istituzionale diplomatica ha ottenuto successivamente la vicepresidenza adesso che c'è la presidenza indiana quindi questo vuol dire che viene riconosciuto il ruolo sicuramente leader dell'Italia in questa in questa materia ruolo che dobbiamo tenerci stretto e quindi non fare pericolosi arretramenti che potrebbero portarci perché il modello preventivo è il modello che sta vincendo il modello preventivo è un modello di coinvolgimento della società civile teniamocelo stretto perché non andare e tornare indietro potrebbe rappresentare un pericoloso arretramento a questo punto lascio la parola a Sabina Bellotti per le conclusioni le conclusioni mi sembra che ci sia poco tempo per concludere e tanta materia tanto materiale interessante che è stato sicuramente messo a fuoco non so non so se mi state sentendo mi state sentendo sì ok benissimo volevo solo dire che mi sembra che questa settimana dell'amministrazione aperta abbia dimostrato che stiamo crescendo non solo come community ma come amministrazioni che anche se non hanno partecipato non stanno partecipando attivamente al Quinton App sono comunque interessate a continuare ad inserire nelle proprie agende istituzionali elementi di apertura ovviamente il tema della partecipazione inclusiva attraverso la trasformazione digitale o anche diretta è un tema che è presente nelle agende nazionali europee internazionali del mondo a causa del contesto complessivo che si è venuto a creare però sicuramente per noi che partecipiamo alla partnership del governo aperto è un asse portante su cui continuare a lavorare è stato sottolineato nei più interventi che hanno toccato le diverse aree di lavoro che riteniamo prioritarie in questo momento nel nostro paese quindi dal tema della partecipazione da diffondere ai diversi livelli di governo alla possibilità e necessità di includere sempre di più le donne trasversalmente nelle politiche e nelle decisioni di policy di questo paese alla importanza fondamentale e mi ha colpito particolarmente il termine usato da Michaela De Rio di de giovanimento una sorta di impoverimento sociale che il nostro paese sta subendo per politiche che non hanno saputo né a livello di istruzione probabilmente né a livello di mercato del lavoro includere correttamente le generazioni giovanili nei processi di responsabilizzazione nel nostro paese e poi il tema sia dell'integrity che anche dell'apertura del PNRR che tutti comunque globalmente chiamano in causa l'importanza della partecipazione e voglio chiudere con un elemento sottolineato proprio dall'ultimo intervento relativo all'apertura dei dati in cui Morena Rangone ha detto che non è sufficiente la copartecipazione ma che comunque la copartecipazione alle politiche pubbliche introduce un elemento nuovo nel contesto culturale che è quello della corresponsabilizzazione rispetto ai risultati questo è molto importante questo è l'elemento chiave che può rendere strategica la collaborazione fra PA e OSC per come l'ha sottolineata Valentina Donini nel suo intervento iniziale cioè l'importanza che si capisca che non si può fare semplicemente la somma dei punti di vista diversi quando si collabora a definire politiche pubbliche ma bisogna arrivare ad una sintesi che è un qualcosa di diverso dalla somma di tutte queste parti sicuramente vale il principio organicistico per cui il tutto è maggiore della somma delle parti questo è fondamentale quando si tratta di processi culturali quindi direi che possiamo reciprocamente congratularci dentro la community per l'esito non solo di questa settimana dell'amministrazione aperta abbiamo avuto tutti i nostri eventi quelli organizzati dalla SNAP quelli organizzati dal Formes quelli organizzati da Funzione Pubblica non meno di un centinaio di partecipanti ad ogni evento con un numero di iscritti di gran lunga che ha di gran lunga esuberato a questa cifra quindi questo significa che l'interesse è reale e da ultimo come rappresentante del Dipartimento della Funzione Pubblica porto a casa come dire il compito di riportare al ministro le parole che sono state dette nella sua direzione della in risposta la sua risposta di interesse ad aprire e a mantenere un dialogo aperto con la società civile quindi ci saranno prossime occasioni sicuramente ovviamente è un messaggio che porto a livello del vertice della mia amministrazione che comunque anche in questa occasione ha dimostrato come dire di voler mantenere il proprio impegno il proprio commitment su questa tematica ricordo che da subito il ministro Zangrillo da gennaio scorso ha voluto essere presente in ogni occasione in cui a livello internazionale si cominciava e si discuteva del percorso di definizione della nuova strategia e ha ribadito appunto in occasione della settimana dell'amministrazione aperta il suo impegno verso il Global Summit che ci sarà a settembre prossimo per essere ancora uno degli attori che vorrà dare un contributo nella fase importante che stiamo affrontando tutti di attuazione di questa strategia per noi significherà appunto definire anche una strategia nazionale perché questo è uno degli impegni che due anni fa circa un anno e mezzo fa abbiamo deciso di mettere nel nostro Quinton App e quindi questo sarà uno degli snodi attorno ai quali intessere un dialogo costruttivo con il vertice politico del Dipartimento che sicuramente non è l'unico attore che può come dire dar vita e soprattutto sostenere sulle proprie spalle una politica nazionale una strategia nazionale per il governo aperto sono molti altri gli attori da coinvolgere alcuni dei quali fondamentali come ANAC come SNAC come la conferenza della regione già coinvolti ma sarà nostro compito in questo percorso completare la nostra riflessione che oggi ha presentato dei primi esiti e da ultimo voglio dire che sono in corso in questa fase delle interviste rivolte a rappresentanti di diverse amministrazioni che stanno gestendo le importanti risorse del PNRR perché stiamo raccogliendo anche da loro un punto di vista importante su come definire delle azioni di supporto quindi le nostre azioni prioritarie devono anche avere questa finalità strategica di consentire sempre di più di attuare i principi del governo aperto appunto nell'attuazione del PNRR mi scuso con voi tutti per il ritardo ma siamo arrivati a un punto in cui sono veramente molte e direi tutte interessanti le riflessioni che si possono fare attorno alle nostre politiche quindi chiudo ringraziando Valentina Donini e Maria Eva Favoino come portavoci del forum per aver guidato la progettazione e anche la realizzazione di questo evento e ringrazio tutti i partecipanti e tutti grazie al dipartimento e tutti gli altri relatori che sono intervenuti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti buon fine settimana di riposo grazie grazie a tutti grazie grazie arrivederci riposo a tutti vi aspettiamo sul sito abbiamo messo il link al sito del governo aperto Italia e vi aspettiamo anche tutti all'app della partecipazione di nuovo buon fine settimana e buon riposo ciao